Il nuovo anno per il club bianco-rosso si apre con le stesse incertezze di quello precedente. Tra colpi di scena mancati e tanto fumo negli occhi, è comunque emerso Gianluca Paparesta, l'ex arbitro ed ex assessore al marketing territoriale del comune di Bari, ha messo a disposizione rapporti e conoscenze per cercare di risolvere la difficile situazione societaria, rendendo allettante il club barese per chi volesse entrare nel mondo del calcio. Si è parlato di contatti con i russi e del suo viaggio a Londra con l'obiettivo di cedere il club. Al club manager Gianluca Paparesta, il 2014 potrebbe regalare un ruolo sempre più incisivo nel panorama calcistico barese. Dopo i primi mesi di apprendimento, l'ex arbitro internazionale è pronto a prendersi la scena, raccogliendo i frutti di un lavoro meticoloso sul fronte societario. Da poco abilitato al ruolo di direttore sportivo, Paparesta potrebbe allargare la sua sfera di influenza anche alla parte tecnica. Una scommessa che potrebbe concretizzarsi fra qualche mese, quando il contratto di Angelozzi andrà in scadenza. Infatti, l'esperto direttore sportivo difficilmente potrà nuovamente accettare un rinnovo contrattuale alle condizioni attuali. A fine stagione sarà probabilmente separazione consensuale dopo quattro anni tra luce e ombre. In bilico Alberti e Zavettieri, a meno di un drastico cambiamento nel girone di ritorno. Nel 2014 i due concluderanno il loro mandato a Bari. Tra i calciatori, destino assicurato in A se non subito, a giugno, per Daniele Sciaudone e Cristian Galano. In rampa di lancio, anche Chiosa e Fedato, osservati speciali da club di Serie A. Cerca riscatto invece Romizzi, poco utilizzato nel girone di andata. Lasceranno quasi sicuramente Bari Alessandro Marotta, Federico Masi ed Enrico Altobello. Sogna il salto di qualità Stefano Beltrame, con più gol e meno fumo. Intanto il mercato di riparazione invernale si è aperto con Guido Angelozzi a caccia di attaccanti. Dopo l'addio di Mattia Salonso e quello molto probabile di Alessandro Marotta, la priorità è quella di rinforzare l'organico con una prima punta di peso. L'attenzione del direttore Angelozzi si sarebbe diretta verso Arturo Lupoli del Varese e Gianmario Comi del Novara. I due giocatori non hanno trovato molto spazio nei rispettivi club durante la prima parte di stagione. Il Bari, per evitare ulteriori penalizzazioni derivanti da difficoltà nei pagamenti di stipendi e contributi, dovrà da subito, con molta probabilità, cedere alcuni dei suoi giocatori migliori. Tra questi c'è Daniele Sciaudone. Sul centrocampista bianco-rosso, come noto, forte è l'interesse di diversi club, Cagliari e Chievo e soprattutto Spezia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società Ligure avrebbe anche formulato una prima offerta ufficiale, 500.000 euro, una somma forse non congrua al valore del giocatore bergamasco, ma che di certo potrebbe far vacillare il club bianco-rosso.